Sono Peter Sagan, sono 21 anni, sono nato a Zilina in Slovacchia e per il terzo anno corro per la squadra di QSK. Qual è il tuo progetto? Già, due anni che faccio qualche risultato, però vado sempre davanti e 2012 deve essere un anno che devo dimostrare che voglio andare più davanti. Voglio vincere, ancora non ho vinto tante corse, ora penso che corro per vincere e poi vediamo cosa arriva. Posso migliorare il cronometro, salita o volata, però ho paura, forse se miglioro qualcosa, a qualche parte già perdo. Allora forse adesso sono un corridore generale, forse voglio rimanere così, più migliorare la cronometro. Questo gruppo che abbiamo qua mi aiuta a non sentire pressione. Crono, salita o volata, tutte le cose faccio in qualche modo che posso migliorare. Ciao!